c'era una volta un imperatore che amava una sola cosa i bei vestiti e ne aveva talmente tanti ma talmente tanti che sapete riusciva a cambiarne anche uno ogni ora un giorno arrivarono nel suo regno due furfanti che si scambiarono per due abilissimi sarti in grado di confezionare degli abiti con una stoffa molto particolare uno dei due truffatori disse all'imperatore sire la nostra abilità consiste nel confezionare degli abiti con una stoffa molto particolare che li rende invisibili agli occhi degli altri sarti che non sono bravi come noi vero ma anche agli occhi di tutti gli altri stolti e sciocchi l'imperatore ascoltò con molta attenzione e già si immaginò tutti i bei vestiti che potevano essere commissionati ai due sarti e così li inondò di monete d'oro e di monete d'argento e ordinò che iniziassero i lavori i due furfanti presero il loro telaio lo posizionarono in una sala del castello e cominciarono i lavori cominciare i lavori è una parola un po' grossa perché in realtà sulla bobina del telaio non c'era nessun filo e non c'era nessuna stoffa tant'è che quando le persone si avvicinavano e rimanevano allibite nel non vedere nulla i due sarti insieme rispondevano il nostro lavoro è di una tale finezza che tu stolto non vedrai mai niente sai perché perché non hai il nostro talento una mattina l'imperatore era curioso di sapere come procedevano i lavori e mandò il suo ministro più gentile più onesto più competente assincerarsi della cosa il ministro fece esattamente quello che l'imperatore gli chiese andò nella sala del castello e si chinò a guardare i due sarti al lavoro ma non vide nulla non vide né filo né stoffa e allora spalancò gli occhi e rimase a bocca aperta occidente occidentaggio pensò ma com'è che io non vedo nulla per non passare da stolto non disse nulla anzi tornò dal suo imperatore e disse che era rimasto estasiato dalla bellezza del lavoro dei due sarti i due sarti visto che il loro lavoro era comunque apprezzato dai dignitari di corte chiesero altre monete d'oro e altre monete d'argento qualche tempo dopo l'imperatore volle sincerarsi con i propri occhi della stoffa per il suo nuovo vestito che avrebbe dovuto indossare di lì a qualche giorno e allora andò nella sala del palazzo anche lui si chinò a guardare i due sarti mentre lavoravano e anche lui rimase sbicottito nel non vedere né filo né stoffa ma per non passare da sciocco espresso invece una grande soddisfazione e commissionò per il giorno dopo la prova ufficiale del suo nuovo abito quando l'imperatore uscì dalla stanza i due furfanti si fregarono le mani e continuarono a tagliare nel vuoto e a cucire senza filo il giorno prima della parata finalmente l'imperatore potè indossare il suo nuovo vestito andò davanti allo specchio e lo indossò e si sentì così leggero così fine che continuò a rimirarsi nello specchio prima davanti poi si metteva di profilo da una parte e dall'altra insomma rimase talmente affascinato di come le stava quel vestito finalmente arrivò il giorno della parata e durante il passaggio del corteo tutta la gente gridava entusiasta quando improvvisamente la voce di un bambino il re è nudo e poi un altro si si è nudo e poi un altro ancora è nudo è nudo è nudo tutti si misero a ridere l'imperatore sbiancò diventò paonazzo e poi improvvisamente tutto rosso viola dalla vergogna per essersi mostrato nudo e non aver riconosciuto la verità una verità uscita solo dalla bocca dei bambini